buongiorno sono fabbio fullone consulente immobiliare habitat group oggi siamo a nichelino in vienino costa una zona centrale del paese per proporvi un alloggio di nuova costruzione composto da ingresso living su soggiorno con cucina vista camera cameretta e bagno dove c'è ancora l'opportunità di scegliere tutti i materiali completa la proprietà un ampio box auto soppalcato per venirlo a vedere e avere questa informazione chiamatemi